Il cruscotto indicatori Anvur, uno strumento per il monitoraggio e l'autovalutazione, è stato il tema del seminario promosso nell'ambito di Unicanforma, un ciclo di seminari voluti dal prorettore alla didattica, professor Luciano Barboni. L'incontro, diretto principalmente agli attori del sistema di assicurazione della qualità, quali direttori delle scuole di Ateneo, responsabili dei corsi di studio, manager didattici, membri del presidio di qualità, membri dei gruppi di riesame, ha visto gli interventi in qualità di relatori dei funzionari Anvur Alberto Ciolfi e Giampiero D'Alessandro, presenti anche rappresentanti di altri Atenei italiani, segno dell'importanza di tali tematiche. L'iniziativa ha lo scopo di approfondire i contenuti di uno strumento che l'Ammur ha messo a disposizione recentemente agli Atenei italiani, che riguarda una serie di indicatori utili e necessari ai fini della valutazione della qualità delle attività didattiche svolte. Questo strumento è disponibile da circa un anno, ma in questo periodo non abbiamo noi avuto modo di approfondire. Abbiamo ritenuto opportuno invitare coloro che lo hanno inventato, che lo hanno pensato e messo a disposizione. Abbiamo comunicato agli Atenei vicini questa nostra iniziativa e con una certa sorpresa, devo dire, c'è stato un riscontro notevole. Abbiamo Atenei toscani che sono collegati in streaming, abbiamo tutti gli Atenei marchigiani presenti, Università di Perugia, Università di Teramo, Università di Chieti. Quindi il successo è significativo e evidentemente abbiamo toccato un tema che stava a cuore a molti Atenei. Grazie.